Buongiorno, ben ritrovati in questa seconda giornata che ci accoglie in questa splendida sala con un cielo fantastico. I congressi Andà fanno una tradizione positiva. Io degli ultimi nove, dieci, ricordo forse quello di Bologna qualche anno fa sotto la pioggia, ma se no mediamente, nonostante siano sempre a fine ottobre, inizio novembre, troviamo delle giornate clamorose. Si vede che costa, dice Michele. Eh sì, in effetti il nostro budget va molto via per questo. Abbiamo degli accordi importanti con il Presidente di Roma vicino al Vaticano, quindi riusciamo ad avere anche questi agganci. Il video è molto emozionante. Mi viene in mente che chi ha avuto l'avventura di leggere il mio messaggio di benvenuto, forse ha letto anche, qui c'è il Professor Galimberti, mi sembra, la frase che io ho ripreso da Bernardo Di Chartre, che dice, la rileggo perché credo che sia centrata, vedendo lo splendore che ci circonda e non solo qui a Perugia. Bernardo Di Chartre diceva, siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane. Non certo per l'acume della nostra vista o l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti. I giganti sono l'esperienza, tutto ciò che è stato costruito in questo Paese non solo, ma certamente in Italia, siamo orgogliosi, prima di noi, e noi abbiamo questa eredità, siamo i custodi, come diceva ieri sera Brunello Cucinelli, di una cosa splendida che è stata costruita con l'esperienza di chi ci ha preceduto e su questa inneschiamo e inneschiamo meccanismi di innovazione, che è un po' il tema che andremo avanti anche questa mattina a presentare. Prima di lasciare la parola a Sergio o la Monica per la presentazione della mattinata, il resume della prima giornata credo sia semplice, nel senso che alla fine tutti gli interventi hanno ricondotto l'attenzione su come sia delicata ma piena di opportunità, questa fase storica che ci porta a vedere una rivoluzione importante legata a questa possibilità di lavorare con attenzione e con intelligenza sulle tecnologie e sulla trasformazione digitale delle nostre aziende, del nostro ruolo come CFO. Continueremo anche questa mattina con il terzo modulo e fatemi dire, ripeto senza voler rubare nulla alla presentazione poi di Sergio più specifica, che quando abbiamo pensato di chiamarlo la dicotomia valoriale della postmodernità, in effetti io che ho un'anima classica, avendo fatto il liceo classico mi sono sentito esaltato da questo utilizzo di termini che danno gusto se volete anche nell'andare a cercare di comprendere come andremo a svilupparlo. Ma se leggiamo, fatemelo dire, il titolo del primo intervento di Pier Giorgio, l'amico Pier Giorgio, io sono contento, contentissimo. Ieri ho fatto riferimento ai lavori che come Andaf conduciamo e anche a valle di questo congresso. Ovviamente lavoreremo sui temi che sono emersi per cercare di costruire insieme al Consiglio Direttivo, insieme alle tante collaborazioni che tanti di voi producono. Ecco, ieri ho fatto riferimento, e stavolta c'è Alberto Tron, lo vedo, si nasconde, ma lo vedo e saluto. Ho parlato del lavoro importante della stesura e predisposizione e stesura dei principi di redazione dei piani di risanamento, per esempio guardando alla fase patologica di crisi di impresa. Con Pier Giorgio, che è nostro presidente del Comitato Tecnico Fiscale, oltre ad avere stesso ruolo per il Comitato Fiscale Europeo, lui ha proposto di parlare del dilemma di Giano tra aspazialità e anomia, alterità valoriale e dispositivi dicotomici nell'impresa invisibile. Allora, qui c'è l'esaltazione, credo, dell'utilizzo della lingua italiana, ma soprattutto dei contenuti che Pier Giorgio, che tutti noi conosciamo, io poi mi esalto veramente ogni volta che lo ascolto, ma lo dico con, credetemi, sembra che io stia giocando, no? Io lo dico perché lui ha veramente una capacità estrema di entrare in meccanismi apparentemente complessi o comunque complessi, snocciolandoli e presentandoli con grande invece attenzione nello spiegare gli elementi che adesso ci riporteranno poi sostanzialmente a parlare, adesso se la dovessi dire con facilità, delle realtà della web tax, come abbiamo letto più volte ultimamente. Quindi questo mondo di aziende dell'invisibile, qualcuno le chiama, cioè aziende che è difficile catalogare o collocare territorialmente o nell'ambito di questi loro servizi intangibili, che ovviamente creano il problema dell'intercettazione, identificazione del reddito che producono e quindi poi tutto quello che ne consegue in termini anche di applicazione delle norme fiscali e non per permettere poi di farle rientrare in canoni che sono invece abituati a vedere l'azienda statica, bloccata, con i suoi riferimenti territoriali ben definiti, con lo sviluppo di attività facilmente identificabili. Quindi è futuro, anche questo, benvenuto futuro, ma è già realtà. E quindi introduco questa mattinata che ci porta fino a ora di pranzo, poi la concluderemo insieme e per entrare leggermente più nel dettaglio della mattinata stessa chiedo a Sergio se viene qui sul palco e così avviamo anche questo sabato mattina. Grazie.